Si trattava di un ordinario servizio di controllo del territorio a seguito di una segnalazione pervenuta alla sala operativa del commissariato da parte di un carabiniere libero dal servizio. Tempestivamente una pattuglia è giunta sul luogo segnalato e si tratta del centro storico di Gela in cui questo carabiniere si è trovato dinanzi ad una scena raccapricciante di due stranieri poi identificati come due stranieri nella fattispecie due rumeni che stavano strattonando e picchiando senza pietà questo cane, questo cagnolino meticcio che è stato subito messo in salvo e trasferito presso il ricara di Caltanissetta. La vicenda chiaramente ci ha sorpresi notevolmente. I due soggetti erano già stati intimati a lasciare il nostro territorio. C'era già per uno un decreto di allontanamento già notificato, per l'altro invece ieri presso il centro di identificazione ed espulsione di Caltanissetta si è provveduto a notificare un decreto di espulsione ad accelerare la procedura amministrativa tesa appunto a allontanare dal territorio italiano i soggetti che abbiano manifestato attraverso condotte e commissione di reati di vario genere una pericolosità sociale che li rende inadeguati alla permanenza nel nostro territorio. Ovviamente noi li abbiamo denunciati per maltrattamento di animali previsto e punito all'articolo 544 terra del codice penale quindi la normativa è già abbastanza completa per quanto concerne il necessario rispetto che è dovuto dagli esseri umani agli animali. Al di là di un affetto che insomma dovrebbe essere naturale nei confronti anche degli animali ovviamente queste sono condotte penalmente perseguibili bisogna dirlo una volta per tutte. Sì sono realmente perseguibili e la perseguibilità è d'ufficio prescinde dalla denuncia di qualunque persona perché noi possiamo procedere autonomamente per fare in modo che chi abbia commesso reati così spreggevoli possa pagare le relative conseguenze previste dalla legge. Il cagnolino in questo caso che fine farà? Il cagnolino è stato trasferito presso la struttura che si occupa dell'accoglienza e della microcippatura dei cani trovati in strada che è il centro ricara di Caltanissette in attesa che trovi una collocazione definitiva e chissà probabilmente noi del commissariato lo prenderemo come nostra mascotte come mascotte della polizia di stato gelese. Ha anche un nome già questo cagnolino? No, se dovesse accadere che diventi nostro gli daremo un nome che magari renderemo noto successivamente.